Don Basile, la situazione in Ucraina è sempre più difficile, anche per il maltempo e per questo freddo che ha invaso un po' tutti quanti. Che cosa si può fare per loro? Anzitutto ancora gli servono le cose termiche, anzitutto il vestito termico, mali e pantaloncini termici, e poi anche la roba pesante per vestirsi in movimenti pesanti, anzitutto. Ma oltre di questo anche servono le cose che ora, per quanto ancora ogni tanto manca elettricità, quello che può aiutare a riscaldare a casa qualcosa, anzitutto generatori elettrici che funzionano dalla benzina o dal diesel, poi di quello che hanno ancora bisogno, cibo alimentari per bambini, per adulti, cibo di lunga conservazione, e anche per le persone ferite, perché oltre ai militari, ora vediamo che stanno bombardando le città, i palazzi interi che muoiono anche gente così. Ogni giorno c'è, ogni città arriva un messire che distrugge proprio un appartamento, e sempre ci sono vittime, ci sono feriti, perciò servono anzitutto anche i farmaci per cura primaria, anzitutto. Ma qui a Crotone si farà una raccolta per mandare tutta questa roba in Ucraina? Sì, noi continuiamo la nostra raccolta presso concessionari Arcuri, che è vicino all'agenzia dell'entrata a Crotone, e lì ancora cerchiamo di raccogliere quello che qualcuno può offrire. Il problema, ecco, quindi non è solo la guerra, ma anche il disagio che c'è per quanto riguarda la povertà, che cresce costantemente. Sì, anzitutto anche questo, perché le persone purtroppo distruggono anzitutto l'infrastruttura civile, anche le fabbriche, per diventare che l'Ucraina rimane senza le cose necessarie per lo sviluppo economico e il sostegno economico del paese. Quindi si può andare da Arcuri auto e fare un gesto di solidarietà per gli ucraini? Sì, se è possibile, siamo sempre grati a quelli che fanno beneficenza per il popolo ucraino, e ringraziamo anche con la nostra preghiera nella Chiesa, anche con il nostro ringraziamento da parte del popolo ucraino.